Continua la protesta di alcuni lavoratori che operano il settore dello smistamento meccanizzato delle poste. Un'avvertenza che va avanti ormai da settimane, con presidi in tutta Italia e che oggi ha visto una nuova iniziativa. Questa volta il presidio si è svolto sotto la sede di poste italiane a Via L'Europa. Presente anche il segretario generale della FIOM, Maurizio Landini. Non è ancora cambiato nulla e ad oggi non c'è ancora la disponibilità a riceverci. Abbiamo chiesto all'amministratore delegato delle poste o a chi per lui di incontrarsi, anche perché credo che sia uno scandalo e un fatto irresponsabile che si faccia finta di non vedere quello che sta succedendo. Ovvero? Ovvero lavoratori che vent'anni che fanno quel lavoro alla meccanizzazione postale, siccome per ridurre i costi l'azienda ha fatto un altro appalto, ha vinto addirittura l'appalto un'azienda delle pulizie, che dice ai lavoratori che se vogliono continuare a lavorare debbano accettare di cambiare il contratto, di ridurre i loro diritti e il loro salario. Questa è una cosa inaccettabile, è una cosa contro qualsiasi logica e trovo assurdo che questa cosa venga fatta e avvallata dalle poste che tra l'altro è anche un'azienda pubblica che dovrebbe ancora di più garantire i diritti delle persone che lavorano. A rischio ci sono molti posti di lavoro, a causa, accusa la FIOM, negli effetti di una gara d'appalto che ha assegnato ad un'associazione temporanea d'impresa tra Selex SPA e la PHSRL la gestione delle attività di manutenzione e conduzione degli impianti automatizzati di smistamento della posta. Una situazione, prosegue la FIOM, che ha portato all'applicazione del contratto delle imprese di pulizia in sostituzione del contratto metalmeccanici applicato da oltre vent'anni. Dopo la protesta, oggi pomeriggio, non c'è stato nessun incontro ma nei prossimi giorni dovrebbe essercene uno tra poste e di sindacati delle telecomunicazioni per sbloccare la situazione. E per i lavoratori che stanno protestando da settimane un'altra data importante dovrebbe essere quella del 9 gennaio prossimo giorno in cui è previsto un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. Tra le reivindicazioni principali qual è quella che vi sa più a cuore? La risposta da avere subito? Ma io penso che è il posto di lavoro che poste con uno schiocco di dita lo potrebbe risolvere immediatamente perché hanno creato un disservizio enorme e fanno finta di niente nessuno ne parla, anzi qualcuno ne parla per fortuna e a discapito dei posti di lavoro.